P.G. Woodhouse. Addio a tutti i gatti. Letto da Valentina Battorti. Quando il micio del club andò a fare un giretto nel fumoir del Drons Club e salutò i presenti con un amichevole miau, Freddy Wigion, che era seduto in un angolo con la testa fra le mani, si alzò tutto rigido. «Credevo che questo», disse con voce fredda e piana, «fosse un tranquillo rifugio per signori, ma poiché vedo che è un accidentaccio di zoo, mi ritirerò». E con ostentazione uscì dalla stanza. Il fatto suscitò grande stupore e costernazione. «Qual è il problema?» chiese un uovo preoccupato. «Manifestazioni emotive così aperte sono rare al Drons. Hanno litigato?» Un focaccetta, sempre ben informato, scosse la testa. «Freddy non ha avuto alcuno screzio personale con quel micio in particolare», disse. «È solo che da quel fine settimana, a Macham, gratta gratta, non sopporta la vista di un gatto». «Un fine settimana dove?» «A Macham, gratta gratta, la dimora a vita di Dalia Prenderby, nell'Oxfordshire». «Dalia Prenderby, l'ho incontrata una volta», disse l'uovo. «L'ho trovata simpatica. Anche Freddy l'amava pazzamente. E l'ha perduta, vero?» «Nel modo più assoluto. Sapete una cosa?» disse un assorto fagiolo. «Scommetto che se tutte le ragazze che Freddy ha amato e perduto fossero disposte l'una accanto all'altra per il lungo, sempre che questo sia possibile, la fila arriverebbe fino a metà piccadilli. «Arriverebbe più in là?» lo corresse l'uovo. «Alcune erano belle alte. Quello che proprio non capisco è… ma chi glielo faceva fare di amarle? Alla fine lo mollavano sempre. Tanto valeva non cominciare neanche. Anzi, sarebbe stato meglio, perché avrebbe trascorso tutto quel tempo leggendo qualche bel libro». «Credo che il problema di Freddy», replicò il focaccetta, «sia che parte sempre molto avvantaggiato. È un bel ragazzo che balla bene e sa muovere le orecchie. E per un attimo la ragazza resta abbagliata e lo incoraggia. A quanto mi dice lui, pare che con questa giovane prenderbi sia partito in quarta, al punto che, quando lei l'ha invitato a Macham Gratta Gratta, lui aveva già comprato la sua copia di «Che cosa dovrebbero sapere tutti i giovani sposi». «Che seccatura questi nomi delle vecchie case di campagna?» riflette il fagiolo. «Perché Gratta Gratta?» mi chiedo. Anche Freddy se l'era chiesto prima di andarci. Dopodiché, dice, ha capito che era la definizione perfetta. Il fatto è che la famiglia di Dalia è una di quelle in cui tutti sono amanti degli animali e la casa, a quanto dice lui, era un maelstrom schiumante di amichetti ottusi. C'erano cani che si grattavano e gatti a perdita d'occhio che grattavano i mobili. Anche se lui non l'ha mai incontrato di persona, credo che nella proprietà, non so bene dove, ci fosse anche uno scimpanzè addomesticato, che senza dubbio si grattava con assiduità come tutti gli altri animali. Sono cose che capitano in piena campagna e quella Macham era molto fuori mano, trovandosi a quasi dieci chilometri di distanza dalla stazione più vicina. È a quella stazione che Dalia Prenderby, a bordo della sua due posti, è andata a prendere Freddy e nel tragitto verso casa si è svolta una conversazione che considero significativa. Mostra infatti il rapporto cordiale che esisteva fra i due giovani a quel punto delle operazioni. Insomma, l'amaro risveglio e tutto il resto sono cose successe dopo. Voglio proprio che tu faccia colpo, Freddy, disse la ragazza dopo aver parlato un po' del più e del meno. Alcuni uomini che ho invitato qui sono stati un fallimento completo. L'importante è che tu faccia bella figura con mio padre. Farò bella figura, concordò Freddy. Certe volte fa un po' il difficile. Portami da lui, suggerì Freddy. Non chiedo altro, portami da lui. Il problema è che i giovani non gli piacciono molto. Io gli piacerò. Gli piacerai, eh? E come? Cosa te lo fa credere? Ho fascino da vendere. Ah sì? Sì, hai molto fascino, vero? E come? Al che lei gli diede una spintarella e lui le diede una spintarella. Lei ridacchiò e lui rise come un sacchetto di carta che esplode. Lei gli diede un colpetto e lui le diede un colpetto. Poi lei disse, sei proprio uno sciocchino! E lui disse, ehi! Insomma, è chiaro in che fase si trovavano. Niente di definitivo, ovviamente. Ma è ovvio che nel cuore della ragazza stava sbocciando l'amore. Ebbene, durante il viaggio verso quel padre di cui la ragazza aveva parlato con tanto sentimento, Freddy, com'è ovvio, riflette parecchio e giunse alla conclusione che non l'avrebbe delusa. In che modo avrebbe lisciato quel papà era a far suo e di nessun altro. Si ripromise di esercitare su di lui tutta la forza della propria personalità magnetica e sperava di registrare una vittoria sostanziale. Vista la situazione, è quasi inutile dirlo a voi che conoscete Freddy tanto bene, la prima cosa che fece entrando nell'orbita di Sir Mortimer Prenderby fu una gaffa scabrosa, colpendo l'anziano signore sulla nuca con un gatto tricolore nemmeno dopo dieci minuti che era lì. Poiché il treno era arrivato un po' in ritardo, una volta a casa non c'era stato il tempo per un'accoglienza in pompa magna né per uno di quei benvenuto alla dimora dei dolci prati. La ragazza lo spedì subito in camera dicendogli di vestirsi in un lampo perché la cena sarebbe stata in tavola di lì a un quarto d'ora. Dopodiché si precipitò anche lei a mettersi in ghingeri e Freddy se la stava cavando bene quando, giratosi per prendere la camicia che aveva lasciato sul letto, ci vide sopra un gattone tricolore che se la impastava con le zampe. Ora sapete bene quanto un uomo tenga al petto della camicia. Per un attimo Freddy restò lì imbambolato, poi con un grido rocco balzò in avanti, prese l'animale, lo portò fuori sul balcone e lo lanciò nel vuoto e un anziano signore che in quel momento sbucava da dietro l'angolo ricevette un colpo in piena nuca. Per tutti i diavoli! urlò l'anziano signore. Una testa spuntò da una finestra. Cos'è successo Mortimer? Qui piove roba grossa! Che sciocchezza! È una serata bellissima! Disse la testa e scomparve. A Freddy parve il caso di presentare le sue scuse. Signore! Disse. Il vecchio signore guardò in tutte le direzioni della bussola e alla fine individuò Freddy sul balcone. Signore! Proseguì Freddy. Mi dispiace molto che abbia ricevuto quella brutta botta. Ero io! Non era lei! Era un gatto! Eh, lo so! Ho tirato io il gatto! Perché? Eh, beh... Ma che razza di... Mi scusi tanto! Disse Freddy. Ma va dal diavolo! Disse il vecchio signore. Freddy rientrò indietreggiando nella stanza e l'episodio si concluse. In generale Freddy è piuttosto rapido nel vestirsi ma quell'episodio lo aveva scosso così non soltanto perse il bottoncino del colletto ma combinò un disastro con le prime due cravate. Il risultato fu che il gong suonò mentre era ancora in maniche di camicia e quando uscì dalla stanza fu informato da un domestico che la comitiva era già in sala da pranzo a sorbire il bouillon. Così si precipitò al piano di sotto e si buttò su una sedia accanto alla sua ospite giusto in tempo per un ex equo con l'ultima cucchiaiata. Per quanto strano si sentiva piuttosto in forma grazie al piacevole pensiero di avere le ginocchia sotto lo stesso tavolo al quale era seduta Dalia. Così dopo aver rivolto un cenno al padrone di casa che da capotavola gli lanciava occhiate di fuoco per fargli sapere che a Dio piacendo gli avrebbe spiegato tutto si mise a posto i polsini e intavolò una conversazione scoppiettante con Lady Prenderby. Un posto delizioso questo, vero? Lady Prenderby rispose che in generale il paesaggio circostante era apprezzato. Era una di quelle lungagnone magre magre tipo la regina Elisabetta con le labbra fredde e serrate e gli occhi altrettanto freddi color blamange. A Freddy non piaceva granché ma come dicevo era d'umore piuttosto effervescente così proseguì con acceso vigore. Immagino che sia ottimo per la caccia. Credo che si cacci parecchio da queste parti, sì? Come pensavo? Commentò Freddy. Ah, è proprio quel che ci vuole, vero? Una frizzante galoppata nella campagna verdeggiante e alla fine una splendida preda, vero? Insomma, gridi di caccia e tutto il resto. Lady Prenderby rabbrividì austera. Purtroppo non posso condividere il suo entusiasmo disse sono assolutamente contraria alla caccia mi sono sempre opposta tanto alla caccia quanto a tutti gli altri sport brutali e sanguinari. Fu un brutto colpo per il caro Freddy che aveva contato di utilizzare quell'argomento di conversazione per almeno due portate. Le parole di Lady Prenderby per un momento lo zittirono e mentre lui raccoglieva le forze in silenzio il padrone di casa che lo guardava in cagnesco ormai da sei minuti e mezzo praticamente senza interruzione si coprì la bocca con la mano per rivolgersi ad Alia dall'altra parte del tavolo. Freddy dice di aver avuto l'impressione che volesse emettere un prudente sussurro ma in realtà le parole esplosero nell'aria come quelle di un fruttivendolo che richiama l'attenzione sui suoi cavoletti di Bruxelles. Dalia! Sì papà? Chi è quel brutto ciffo? Ssss! Come sarebbe ssss? Chi è? È il signor Wigion Il signor chi? Wigion Articola chiaramente per favore invece di far fugliare disse Sir Mortimer stizzito Secondo me è Wigion e basta Chi è che l'ha invitato qui? Io! Perché? È un mio amico Ma a me sembra un castigo di Dio un ceffo da galera lo definirei Ssss! Perché continui a farmi Ssss? Quello deve essere anche squilibrato è uno che tira i gatti addosso alla gente Papà per favore Ma non dirmi papà per favore Non ha senso Ti dico che tira i gatti addosso alla gente Ne ha tirato uno addosso a me Per me è uno scemo a dir poco e in più è il giovanotto vestito nel modo più offensivo che abbia mai visto in questa casa Quanto tempo si ferma? Fino a lunedì Addio! E oggi è solo venerdì Ruggì Sir Mortimer Prenderby Ovviamente per Freddy era una situazione sgradevole e sono costretto a riconoscere che lui non la gestì con particolare abilità È chiaro che avrebbe dovuto buttarsi su qualche chiacchiera spigliata Invece la sola idea che gli era venuta in mente era stata di chiedere a Lady Prenderby se era appassionata di caccia Dopo che Lady Prenderby ebbe replicato che mancandole l'istinto selvaggio e l'ingiustificata sete di sangue necessari per essere una spietata assassina non aveva la passione della caccia spiazzato risprofondò nel silenzio Tutto considerato quando la cena si concluse non era poi così dispiaciuto Poiché lui e Sir Mortimer erano gli unici uomini a tavola mentre quasi tutti i posti erano stati occupati da un pugno di donne un po' muffite che Freddy aveva classificato col nome generico di zie gli sembrò arrivato il momento in cui lui e il padrone di casa potevano riunirsi in circostanze più felici di quelle dell'ultimo incontro e cominciare a apprezzarsi a vicenda sperava in un tranquillo teta teta con un bicchiere di porto in mano nel corso del quale avrebbe appianato la faccenda del gatto e in generale avrebbe fatto quanto era in suo potere per correggere l'opinione sfavorevole che l'altro doveva essersi fatto di lui ma evidentemente Sir Mortimer aveva le sue idee in fatto di obblighi e doveri invece di circondare Freddy di bottiglie si limitò a lanciargli un unico prolungato sguardo di disgusto per poi varcare la porta finestra e filarsela in giardino un momento dopo la sua testa ricomparve e pronunciò queste parole lei e i suoi gatti maledetti poi il buio lo risucchiò di nuovo Freddy era molto perplesso erano tutte novità per lui in vita sua era stato in numerose case di campagna ma era la prima volta che veniva piantato in asso dopo cena e non sapeva bene come affrontare la situazione se lo stava ancora chiedendo quando la testa di Sir Mortimer tornò a mostrarsi e il suo possessore dopo avergli lanciato un altro dei suoi sguardi prolungati disse gatti a fede di Dio e scomparve di nuovo a questo punto Freddy era proprio seccato che Dali a prendervi gli dicesse di fare bella figura con suo padre gli stava anche bene pensava ma come poteva fare bella figura con uno che non stava fermo due secondi di seguito se Sir Mortimer aveva intenzione di trascorrere il resto della serata a passargli davanti a sprazzi come una giostra c'era ben poca speranza di giungere a un vero e proprio rapprochement fu un sollievo per lui quando all'improvviso ricomparve dal nulla la sua vecchia conoscenza il gattone tricolore sembra offrirgli un modo per risollevarsi il morale così Freddy prese dal piatto di Lady Prenderby un avanzo di banana e lo gettò alla bestiola da una distanza di due metri e un istante dopo rispuntò Sir Mortimer ha dato un calcio al gatto disse Sir Mortimer a Freddy venne la mezza idea di chiedere a quel vecchio rompiscatole se credeva di essere un uomo o un saltamartino ma il buon nome dei Wigion glielo impedì no rispose non ho dato un calcio al gatto qualcosa gli avrà fatto se è scappato fuori a 60 chilometri all'ora gli ho solo offerto un po' di frutta lo faccia di nuovo e vedrà cosa succede bella serata disse Freddy cambiando argomento no non è una bella serata stupido ribatte Sir Mortimer Freddy si alzò in piedi immagino che avesse i nervi un po' scossi andrò a unirmi alle signore disse con dignità e Dio le aiuti replicò Sir Mortimer prendermi con voce colma del sentimento più profondo e sparì di nuovo Freddy andando verso il soggiorno era d'umore pensoso non dico che sia un uomo di grande buonsenso ma certo ne ha quanto serve per capire se ha chiuso in bellezza o no e nel caso specifico capì di non aver chiuso in bellezza neanche lontanamente non era per così dire nei panni dell'idolo di Macham gratta gratta che sarebbe entrato nel soggiorno ma piuttosto in quelli di un giovanotto che dopo aver suscitato una prima impressione sgradevole doveva compiere una grande opera di adulazione per considerarsi un ospite davvero ben voluto in quella casa sapeva di doversi dare da fare per recuperare il terreno perduto e consapevole del fatto che con donne vecchio stampo come quelle vissute sempre in campagna era importante sfoderare le piccole gentilezze e attenzioni tanto in voga ai tempi della regina vittoria la sua prima mossa entrando fu di gettarsi su una zia che gli sembrava in cerca di una superficie d'appoggio per la tazza del caffè mi permetta disse freddy mellifluo fino alle sopracciglia e balzando in avanti con la sensazione che fosse il passo giusto da fare con quelle signore trovò il senpieno un gatto mi dispiace disse e indietreggiò abbassando il tallone su un altro gatto sono proprio mortificato disse e vacillando si avvicinò a una sedia e si lasciò cadere con tutto il suo peso su un terzo gatto ovviamente scattò in piedi come una molla ma era troppo tardi seguirono i soliti non è niente si figuri ma lui sapeva leggere fra le righe gli occhi di Lady Prenderby avevano indugiato sui suoi per un breve istante ma tanto era bastato freddy capì che la sua posizione agli occhi della signora era ormai più o meno la stessa che avrebbe avuto re Erode a un ritrovo di madri israelite il sabato pomeriggio durante questi brevi dialoghi la giovane Dalia era rimasta seduta su un divano in fondo alla stanza a sfogliare un settimanale e alla vista della ragazza freddy fu attirato come una calamita la sua compassione femminile era proprio quello che gli ci voleva in simili circostanze camminando con infinita prudenza attraversò la stanza per andare lì dove era seduta scandagliato il terreno palmo a palmo per evitare eventuali felini si lasciò sprofondare accanto a lei nel divano e immaginate la sua agonia spirituale quando scoprì che il rubinetto generale della compassione femminile era stato chiuso la ragazza sembrava una palla di gelato irta di spine non c'è bisogno che mi spieghi disse fredda in risposta alle sue parole d'esordio capisco bene che ci sono persone a cui gli animali non piacciono ma accidenti gridò freddy sventolando con frenesia il braccio oh senti mi dispiace aggiunse mentre il suo pugno colpiva nelle costole un altro membro del serraglio Delia acchiappò l'animale che era volato in aria mamma forse faresti bene a prendere Augustus disse a quanto pare sta dando fastidio al signor Widgeon giusto rispose Lady prenderbi con me sarà più al sicuro ma accidenti belò freddy Dalia prenderbi trattenne bruscamente il respiro è proprio vero disse poi che non puoi conoscere veramente un uomo finché non lo hai visto a casa tua cosa vorresti dire niente disse Dalia poi si alzò e andò al pianoforte dove si mise a cantare vecchie canzoni popolari bretoni con aria di staccata lasciando freddy a cercare di cavarsela come meglio poteva con un album di famiglia in cui c'erano fotografie sbiadite con didascalie del tipo la zia Emily fa il bagno l'andudno 1893 e il cugino George al ballo in maschera così si consumò la lunga tranquilla pacifica serata in casa finché Lady prenderbi non ebbe la pietà di dare il fischio di chiusura e freddy fu libero di svignarsela in camera sua si sarebbe portati a pensare che i pensieri di freddy mentre se ne andava di sopra con la candela in mano vertessero esclusivamente sulla giovane Dalia tuttavia non era così ovviamente rivolse una certa dose di attenzione al suo palese malumore ma riempirgli la mente in realtà era il pensiero consolante che finalmente la sua strada e quella del regno degli animali di Macham gratta gratta si erano divisi lui aveva preso la strada di montagna per così dire mentre loro avevano preso quella di pianura perché quale che fosse la situazione in sala da pranzo in soggiorno e nel resto della casa pensava la sua camera da letto sicuramente sarebbe stata un porto sicuro senza gatti di sorta ricordando tuttavia l'increscioso episodio accaduto prima di cena si mise per terra a quattro zampe e sottopose ad attente ad isamina i vari angoli e fessure i suoi occhi non rilevarono la presenza di felini sollevato si rialzò in piedi con un allegro motivetto sulle labbra ma non fece in tempo ad andare oltre le prime due battute che una voce alle sue spalle si mise a cantare la parte del basso giratosi vide sul letto uno splendido pastore al saziano freddi guardò il cane il cane guardò freddi era una situazione di grande imbarazzo un'occhiata al cane bastò per convincere freddi che l'animale si era fatto un'idea completamente sbagliata della situazione e vedeva in lui soltanto un intruso un forestiero che aveva occupato con la forza il suo giaciglio personale i suoi modi erano chiaramente risentiti freddi fissò freddi con algi di occhi gialli e arricciò appena il labbro superiore per mostrare meglio un lungo dente bianco storse anche il naso e fece sottovoce l'imitazione di un tuono lontano freddi non sapeva bene che strada tentare con un coso simile sul copriletto era impossibile mettersi sotto le coperte trascorrere la notte su una sedia tuttavia esulava dalla sua filosofia fece la cosa secondo me più degna di un uomo di stato sgattaiolò sul balcone e strizzò le palpebre per vedere se lungo il muro della casa non ci fosse una finestra vicina illuminata dietro la quale magari si nascondesse qualcuno che potesse correre ad aiutarlo e confortarlo c'era una finestra illuminata a breve distanza così sporse la testa fin dove poté e disse c'è qualcuno non udendo risposta ripeté c'è qualcuno infine per chiarire il concetto aggiunse c'è qualcuno c'è qualcuno stavolta stavolta ottenne qualche risultato dalla finestra sbucò improvvisamente la testa di Lady Prenderby chi è che sta facendo questo baccano abominevole volle sapere non era esattamente l'atteggiamento sperato ma Freddy sapeva accettare la buona e la cattiva sorte sono io Wigeon Frederick deve proprio cantare sul balcone signor Wigeon non stavo cantando stavo dicendo c'è qualcuno stava dicendo cosa stavo dicendo se c'era qualcuno se c'era qualcuno dove ma no stavo dicendo c'è qualcuno una specie di grido d'allarme un grido d'aiuto mettiamola così il problema è che nella mia stanza c'è un cane che genere di cane un pastore elsaziano gigantesco deve essere senz'altro Willem buonanotte signor Wigeon la finestra si richiuse Freddy è mise un guaito sconvolto volevo dirle una cosa ma insomma signor Wigeon ma cosa devo fare fare con questo alsaziano gigantesco Lady prenderbi sembrò considerare la situazione niente biscottini dolci disse e domattina quando la cameriera le porterà il tè non gli dia zucchero per favore solo un po' di latte nel piattino è a dieta buonanotte signor Wigeon Freddy a questo punto era oltremodo perplesso la sua ospite aveva un bel dire che quel cane tremendo era a dieta Willem era ancora convinto che il suo medico curante non gli avesse proibito i Wigeon e così rimise in moto le meningi per escogitare il prossimo passo da fare c'erano svariati modi possibili di procedere poiché il suo balcone non era molto distante da terra volendo avrebbe potuto saltare giù e trascorrere una salutare nottata nella iola dei nasturzi oppure avrebbe potuto raggomitolarsi sul pavimento o ancora sarebbe potuto uscire dalla stanza e cercarsi un posticino al piano di sotto l'ultimo piano gli sembrava forse il migliore un'unica cosa ne ostacolava la buona riuscita quando Freddy si fosse avvicinato alla porta probabilmente il suo compagno di stanza lo avrebbe preso per un ladro sul punto di saccheggiare quella casa isolata di campagna e lo avrebbe bloccato tuttavia era un rischio da correre e infatti un momento dopo Freddy stava attraversando in punta di piedi la moquette con tutta la prudenza di un acrobata sul filo quando è poco convinto di ricordare i passi giusti beh la scampò per un pelo nell'istante in cui cominciò ad attraversare la stanza il cane a quanto pareva era occupato con qualcosa sul letto forse un cuscino stava leccando assorto l'oggetto e non badò a Freddy finché lui fu a metà della terra di nessuno poi di colpo spiccò una specie di balzo da seduto nella sua direzione e due secondi dopo Freddy con la sensazione di avere degli spifferi in fondo ai pantaloni era già in cima a un armadio con il cane che lo guardava dal pavimento dice che forse una sola volta in vita sua era stato più svelto quando a 14 anni era stato sorpreso dallo zio Lord Blycester a fumare un sigaro di quest'ultimo in biblioteca ma ha la sensazione di aver migliorato il record di allora di almeno un quinto di secondo gli pareva che la sua sistemazione per la notte fosse ormai stabilita e il pensiero di dover restare appollaiato in cima a un armadio per il capriccio di un cane era decisamente offensivo per il suo spirito orgoglioso come ben potete immaginare comunque visto che con i pastori alsaziani non si può ragionare quella sembrava l'unica cosa da fare e stava cercando di mettersi comodo per quanto fosse possibile con un pezzo accuminato di legno conficcato nella parte molle della gamba quando dal corridoio arrivò un rumore di fiutate e dalla porta sbucò qualcosa che sulle prime alla luce fioca non riuscì a identificare sembrava un incrocio fra un netta penne e uno stuoino da caminetto a una seconda e più approfondita indagine risultò essere un cucciolo di pechinese la stessa incertezza che aveva colto freddi circa l'identità del nuovo arrivato colse anche il pastore alsaziano che dopo aver sollevato le sopracciglia con aria perplessa si alzò in piedi e avanzò con sguardo indagatore in via preliminare sollevò una zampa e buttò a terra l'intruso poi sempre avanzando abbassò il naso e annusò fu una mossa che il suo migliore amico gli avrebbe suggerito di non fare i pechinesi sono ossiduri soprattutto come in questo caso se femmine guardano il mondo dritto negli occhi e tendono a mal sopportare un'eccessiva confidenza ci fu una specie di esplosione e un attimo dopo il pastore alsaziano con la coda fra le gambe stava già sfrecciando fuori dalla porta inseguito furiosamente freddi udì i clamori della battaglia per correre il corridoio e fu musica per le sue orecchie era più o meno quello che il pastore alsaziano si meritava e adesso lo aveva avuto poco dopo il pechinese tornò la fronte imperlata di sudore e andò a sedersi ai piedi dell'armadio agitando la coda tozza e freddi pensando che l'allarme fosse cessato e lui fosse libero di scendere tornò a terra la sua prima mossa fu quella di chiudere la porta la seconda di fraternizzare con il suo protettore freddi è convinto che si debbano sempre riconoscere i meriti altrui e gli sembrava che il pechinese avesse dato prova di fare onore alla specie canina così lo intrattenne senza risparmiarsi si sdraiò sul pavimento e si lasciò leccare la faccia 233 volte gli fece il solletico dietro l'orecchio sinistro dietro l'orecchio destro e alla base della coda nell'ordine descritto inoltre lo accarezzò sulla pancia tutte attenzioni che il cane ricevette con cordialità ed evidente soddisfazione e poiché sembrava ancora in vena di godersela e aveva cominciato a considerare freddi il sovrintendente ufficiale ai divertimenti questi convinto di non poterlo deludere e di dover ricoprire il ruolo del padrone di casa quale che fosse il prezzo da pagare si tolse la cravatta e gliela porse non lo avrebbe fatto per chiunque dice ma trattandosi del suo salvatore si sarebbe spinto a qualunque cosa ebbene la cravatta andò d'incanto fu subito un successone il pechinese la mordicchiò la inseguì ci restò impigliato se la portò in giro per tutta la stanza e stava già cominciando a scuoterla da una parte all'altra quando accadde un fatto increscioso il pechinese calcolò male le distanze e prese una gran brutta testata contro la gamba del letto un cucciolo che si trovi in circostanze del genere non ha niente del pelle rossa sul rogo un attimo dopo freddi udì una serie di grida terribili da gelargli il sangue nelle vene che parevano risuonare nella notte come le urla di agonia della seconda parte in causa in un omicidio di secondo grado lo sorprendeva che un pechinese per giunta così giovane potesse produrre un putiferio simile secondo freddi un baronetto pugnalato alla schiena con un tagliacarte nella sua biblioteca non avrebbe potuto produrre nemmeno metà di quel baccano finalmente l'agonia sembrò scemare di colpo come se non fosse successo niente il pechinese smise di guaire e con un sorriso divertito ripresa a giocare con la cravatta e in quello stesso istante si udì un sussurro dall'esterno seguito da un colpo alla porta chi è? chiese freddi sono io signore Beagleswade chi è Beagleswade? il maggiordomo signore cosa vuole? la signora desidera che porti via il cane che lei sta torturando seguirono altri sussurri la signora desidera anche farle sapere che domani mattina segnalerà il fatto alla protezione animali altri sussurri inoltre la signora mi ordina di aggiungere che se lei dovesse mostrarsi recalcitrante dovrò colpirla in testa con l'attizzatoio non si può proprio dire che fosse una cosa piacevole per il nostro povero caro freddi e nemmeno lui era di questo avviso fuori quando aprì la porta vide un gruppetto formato da Lady Prenderby la figlia Dalia un assortimento di zie e il maggiordomo con l'attizzatoio e dice che gli occhi di Dalia quando incrociarono il suo sguardo lo penetrarono come coltelli ma fatemi spiegare cominciò a dire ci risparmi i particolari lo interruppe Lady Prenderby con un brivido prese il pechinese e lo tastò per vedere se avesse qualche osso rotto ma ascolti buonanotte signor Wigion anche le zie gli augurarono buonanotte e così pure il maggiordomo Dalia mantenne un disgustato silenzio ma credetemi non ho fatto niente davvero ha battuto la testa contro il letto che cosa ha detto chiese una delle zie che era un po' dura d'orecchi ha detto che ha sbattuto la testa di quella povera creatura contro il letto dissele di prendermi che orrore disse la zia che enormità aggiunse una seconda zia una terza zia inaugurò una nuova linea di pensiero si chiese come si poteva stare tranquilli con un uomo come Freddy in casa ventilò la possibilità che le assassinasse tutte nel loro letto e anche se Freddy si offrì di garantirle per iscritto di non avere la minima intenzione di avvicinarsi al suo letto l'idea sembrò suscitare un profondo effetto Beagle's Wade dissele di prendermi signora lei resterà in questo corridoio per il resto della notte con l'attizzatoio molto bene signora se quest'uomo dovesse cercare di uscire dalla sua stanza gli darà una bella botta in testa sarà fatto signora ma ascolti abbozzò Freddy buonanotte signor Widgeon la folla si disperse di lì a poco in corridoio non restò più nessuno tranne Beagle's Wade il maggiordomo il quale aveva cominciato a camminare avanti e indietro fermandosi di tanto in tanto a colpire l'aria con l'attizzatoio come per saggiare l'elasticità dei muscoli del polso e accertarsi che fossero in condizione di accompagnare bene il colpo lo spettacolo che offriva era tanto sgradevole che Freddy si ritirò nella sua stanza e chiuse la porta come ben potete immaginare aveva il petto colmo di emozioni angosciose lo sguardo di Dalia lo aveva agitato non poco capì di doversi concentrare su un bel po' di pensieri penosi e per facilitare la riflessione si sedette sul letto o meglio per essere precisi sul gatto morto disteso sul letto era lui che il pastore alsaziano stava leccando appena prima della definitiva rottura dei rapporti con Freddy l'oggetto se ben ricordate che questi aveva preso per un cuscino fece un balzo come se il cadavere invece di essere freddo fosse rovente guardò giù sperando contro ogni evidenza che l'animale fosse solo in coma ma dopo un'occhiata capì che aveva fatto il grande passo non aveva mai visto un gatto morto dormiva tranquillo dopo la febbre convulsa della vita non si può sbagliare di molto dicendo che a questo punto il nostro povero Freddy era sgomento la sua reputazione in quella casa era ormai nulla il suo nome infangato tutti vedevano in lui Uijon il vivisettore dilettante quell'ennesimo disastro poteva solo affondarlo definitivamente prima aveva ancora la remota speranza di spiegare la vicenda del pechinese l'indomani mattina quando gli umori si fossero calmati ma chi sarebbe stato disposto ad ascoltarlo se lo avessero trovato con un gatto morto poi però gli venne in mente che forse avrebbe potuto non farsi trovare con un gatto morto bastava andare alla chetichella al piano di sotto a depositare la salma in soggiorno o da qualche altra parte e i sospetti non sarebbero ricaduti su di lui dopo tutto in una casa affollata di felini come quella probabilmente i gatti morivano dappertutto come mosche la mattina dopo una cameriera avrebbe trovato l'animale e avrebbe riferito al quartier generale che la schiera dei felini si era ridotta di un elemento ci sarebbe stato qualche schiocchetto di lingua e forse un paio di lacrime ma poi l'episodio sarebbe stato dimenticato questo pensiero gli infuse nuova vita tutto freschezza ed efficienza prese il corpo per la coda e stava per sfrecciare fuori dalla stanza quando si ricordò di Biggleswade sbirciò fuori poteva darsi che il maggiordomo dopo che l'occhio dell'autorità si era allontanato fosse andato a godersi quanto restava del suo sonno ristoratore invece no evidentemente a Macham gratta gratta il motto era servizio e fedeltà il tizio era lì ancora a esercitarsi con l'attizzatoio Freddy rinchiuse la porta e così facendo pensò improvvisamente alla finestra ecco dove era la soluzione aveva perso tempo pensando alle porte al soggiorno e intanto il balcone era sempre stato lì a guardarlo in faccia bastava lanciare il corpo fuori nella notte silenziosa e far sì che a trovarlo fossero i giardinieri non le cameriere si precipitò fuori bisognava fare in fretta sollevò il suo fardello lo fece oscillare avanti e indietro per imprimergli velocità poi lo mollò e dal buio del giardino arrivò improvvisamente il grido pieno di rabbia di un uomo ahhh chi ha tirato quel gatto era la voce del padrone di casa Sir Mortimer prendervi mostratemi l'uomo che ha tirato quel gatto tu o no alcune finestre si aprirono ne uscirono delle teste Freddy si lasciò cadere sul pavimento del balcone e rotolò contro il muro Mortimer per l'amor del cielo cosa c'è fatemi mettere le mani sull'uomo che mi ha colpito sull'occhio con un gatto un gatto dalla voce Lady Prenderby sembrava perplessa sei sicuro sicuro ma cosa dici certo che sono sicuro mi stavo appisolando sulla maca quando all'improvviso con un sibilo un gatto gigantesco è volato in aria e mi ha beccato proprio sul globo oculare bello un uomo non può dormire su una maca nel proprio giardino senza che gli altri lo prendano a gattate insisto voglio il sangue dell'uomo che ha lanciato quel gatto da dove arrivava deve essere arrivato da quel balcone lì il balcone del signor Wigion constatò Lady Prenderby in tono aspro dovevo immaginarlo Sir Mortimer lanciò un grido anche io dovevo immaginarlo ma certo Wigion quel brutto ceffo è tutta la sera che lancia gatti dietro la nuca dove mi ha colpito prima di cena ho un brutto livido qualcuno venga a aprirmi la porta voglio il mio bastone pesante quello con il manico di amorio intagliato anche il frustino andrà bene aspetta Mortimer disse Lady Prenderby non fare mosse avventate è chiaro che quell'uomo è un pazzo manderò Beagle su e da debellarlo lui ha l'attizzatoio resta ben poco da dire concluse il focaccetta alle 2 e 15 del mattino un'oscura figura incompleto senza cravatta arrivava zoppicante alla stazioncina di Lower Smattering on the Whistle a una decina di chilometri da Macham Gratta Gratta alle 3.47 partiva per Londra a bordo del primo treno era Frederick Wigeon aveva il cuore spezzato e le vesciche su entrambi i talloni e in quel cuore spezzato c'era la ripugnanza per tutti i gatti della quale avete assistito poco fa a una manifestazione tanto clamorosa non svelerò un segreto dicendo che Freddy Wigeon ha rotto definitivamente con i felini d'ora in poi attraverseranno il suo cammino a loro rischio e pericolo e pericolo e pericolo a loro rischio